Ragazzuoli, torniamo a parlare di Pokémon Leggende AZ o Leggende Z, ZA, chiamatelo un po' come volete, vi avevo detto insomma che ne avremmo sicuramente parlato e oggi video così di chiacchierata, voi ovviamente siete liberi di farmi sapere la vostra nella sezione commenti così da poter discuterne amichevolmente, insomma come se fossimo davanti a un bel caffè. Partiamo dal gioco in sé, gioco che uscirà come sappiamo nel 2025, non c'è stato detto se nella prima metà o nella seconda metà del 2025, ma sta di fatto che il 2024 momentaneamente sembrerebbe essere privo di giochi Pokémon della serie principale. C'è ancora Aprile e Maggio come finestra per un ulteriore Pokémon Presents dove magari, o ci verrà detto qualcosina in più riguardo al nuovo titolo Leggende, oppure magari un titolo che potrebbe uscire novembre-dicembre 2024? Boh, chissà. Oppure nella prima metà del 2025, posticipando Leggende a fine 2025. Potrebbe sempre essere, ma, ma, ma. Parliamo di Leggende ZA, Leggende AZ, Leggende Z e partiamo dai starter, cioè parliamo degli starter, quelli che potrebbero essere gli starter. Ne avremmo solo tre? Perché questa domanda? Perché, visto che Leggende ZA si rifarà a Kalos, ovviamente, proprio a Kalos noi con i titoli di X ed Y avevamo sei starter, non tre. Avevamo gli starter di Kalos più gli starter di Kanto da poter scegliere. Quindi, potrebbe essere mantenuta la stessa cosa, anche se non lo so, perché comunque, allora, ci stanno degli starter che potrebbero tranquillamente essere messi, e io su questo sono abbastanza convinto, perché, come è stato fatto per Leggende Archeus, sono stati messi tre starter di generazioni diverse, che però comunque sono stati sempre apprezzati dal pubblico. Parliamo di Desiduai, di Typhlosion e di Oshawott, di Samurott, con delle forme alternative. Formula che potremmo rivedere in questo nuovo Leggende, con altri starter, che hanno sempre avuto una buona fanbase, mettiamola così, ma ai quali manca una forma alternativa o una meccanica. E tra questi abbiamo, ovviamente, i Pokémon di Quarta, che sono amati tutti e tre, allo stesso modo, dal pubblico, ma che non hanno mai avuto una Mega, una meccanica peculiare, nulla di tutto ciò, a differenza degli altri. E potremmo avere anche, oltre a loro, anche un, magari, Feraligator, perché comunque Typhlosion, amatissimo dal pubblico, ha avuto la sua forma Isui. Meganium non è mai stato troppo calcolato, mentre Feraligator, altro starter, amato dal pubblico, potrebbe avere una sua forma regionale. Quelli di Kanto no, perché hanno avuto la Gigamax, la Mega Evoluzione. Quelli di Quinta abbiamo avuto già Samurott, magari un Serperior potrebbe essere, come starter d'erba. Quelli di Kalos ne dubito fortemente, anche perché comunque hanno avuto Greninja, ha avuto la sua forma Ash, che comunque non è ottenibile se non nella demo di Sole e Luna, ma gli altri non sono così tanto amati. Quindi potremmo avere una roba del genere, quindi o gli starter di quarta, con una forma regionale, oppure un Feraligator, Serperior e Infernape, con la loro forma regionale, chissà. Sarebbe un bel terzetto di starter. Parliamo adesso di quello che potrebbe essere Luminopoli, o comunque l'esplorazione della nostra mappa. Perché, come penso che voi già sappiate, il gioco sarà ambientato totalmente a Luminopoli, nella città di Luminopoli. È una cosa che cozza un pochino con Pokémon, è una cosa che si può fare... Allora, è una cosa che si può fare, ovviamente. Tanti giochi, specialmente negli anni recenti, sono stati ambientati in una sola location. Quello proprio più banale Spider-Man della Marvel, che è ambientato solo a New York. Cyberpunk, oppure pensiamo anche a un, che ne so, a un Assassin's Creed Brotherhood, che è ambientato a Roma. Roma, ok, è gigante, però è ambientato solo in una location. Si potrebbe fare, si potrebbe fare. Cozzerebbe un pochino con il discorso di Pokémon, ovviamente perché Pokémon fa della sua forza l'esplorazione, il girare per il mondo. Trovando vari habitat, varie location, con vari Pokémon. Però, sarebbe una scommessina carina da parte di The Pokémon Company, una cosa che potremmo vedere, anche perché poi, se andiamo a vedere anche su Scarlatto e su Violetto, tutte le altre città erano praticamente inutili, vuote soprattutto, mentre Mesapoli, ok, con negozi vuoti, però alla fine comunque tutto si concentrava lì. Il grosso si concentrava lì, poi c'era l'esplorazione, eccetera, eccetera, però il grosso nelle città lo facevi lì, a livello di shopping, di subquest con l'università anche, no? Con l'accademia. Quindi, potremmo vedere una Luminopoli, ovviamente molto più grande di quella che abbiamo visto su DS, con, essendo una metropoli, con esplorazione anche della zona sotterranea. Dei canali, la zona sotterranea di Luminopoli, insomma, sarebbe anche una cosina, una cosina carina. Ma, secondo me, non solo, perché Luminopoli, ok, è la città, la capitale di Kalos, dove sarà ambientato Pokémon Leggende, ma, ma, vicino a Luminopoli, ma rientra comunque nel territorio, abbiamo la centrale elettrica, che ci è stata negata in XY, e la Villa Aurea. Villa Aurea, che era la sede, la casa del re di Kalos. Ma perché dico questo? Perché c'è anche il discorso del passato, futuro, presente, quello che sarà. No, mi spiego, cerco di spiegarmi il meglio possibile. Su leggende, su Pokémon Leggende Arceus, noi tornavamo indietro nel tempo, con la scusante, diciamo così, di capire la backstory di Ghiratina, e del perché, come poi scopriamo in Platino, del perché tutti si fossero dimenticati di Ghiratina. Perché su Pokémon Platino, ce lo dice anche Camilla, che, ok, di Alga e Palkia tutti li conoscono, ma nessuno conosce Ghiratina. E questa cosa ci è stata, diciamo, raccontata tramite Pokémon Leggende Arceus, dove anche lì, effettivamente, tutti sanno di Alga e Palkia, ma nessuno conosce Ghiratina, tranne Etelo. E quindi noi torniamo indietro nel passato per poi tutti i discorsi, no, della lore di Leggende Arceus, legati anche al rapporto uomini e Pokémon. Qui, in questa Luminopoli, si parte con il discorso della fondazione della città, no? Della rigenerazione di una civiltà umani e Pokémon, eccetera, eccetera. Però c'è un evento che su Pokémon X e Y c'è stato raccontato a mozzi che bocconi, ma che noi non abbiamo vissuto, che è quello di, ovviamente, della Guerra di Kalos. Guerra di Kalos fatta proprio da Azeta, re di Kalos, all'epoca, ed ecco perché, riferimento alla Villa Aurea. Ma non solo, perché su X ed Y abbiamo il problema che, a livello di lore, non ci viene raccontato nulla, né di Xerneas, né di Iveltal, che vengono solo usati come batterie per la Macchina Suprema. E, ovviamente, manca la lore di Zygarde, che, dei tre, è il Pokémon leggendario che deve controllare un equilibrio a livello mondiale. Secondo me, secondo me, si potrebbe anche fare una cosa del genere, del tipo, viviamo Luminopoli nel presente, andando anche nel passato, per rivivere gli eventi passati. Cioè, secondo me, non sarà solo un gioco concentrato sul passato di Kalos, di Luminopoli, o nel presente di Kalos o di Luminopoli, ma sarà anche una cosa passata. Passata fino alla Guerra di Azeta, dove vedremo, magari, tutto quello che porta alla guerra, e, ovviamente, non cercando di impedirla, perché, comunque, poi la guerra deve esserci per forza, ma potremmo scoprire tante cose riguardo alla guerra, tante motivazioni e tutto quanto, oltre a scoprire anche il Floet, Fiore Eterno, di Azeta, questo benedettissimo Pokémon, sperando che veda la luce in questo progetto. E questo andrebbe un pochino a chiudere un pochino il cerchio, raccontarci la backstory, facendocela vivere, di Azeta, che è un personaggio fondamentale per Kalos, ma che non c'è stato raccontato attraverso i giochi per il 3DS, e anche per la lore, o comunque tutto il racconto del Pokémon leggendario Zygarde. Si potrebbe fare, si potrebbe fare, e, ovviamente, non con Wormall, o, non lo so, Ultravarti, che abbiamo vissuto, ma semplicemente con una strategia narrativa alla Assassin's Creed, con una struttura simil Animus di Assassin's Creed, che ci può far ritornare indietro, con il nostro pensiero e tutto quanto, nel tempo per rivivere degli eventi passati, e poi magari vivere la luminopoli del presente, o, comunque, del recente presente. Non mi baso molto su quel teaserino che ci è stato fatto vedere, come presentazione, perché, comunque, è un teaser, un semplice teaser. Potrebbe raccontarci di una luminopoli ambientata nel presente nostro, o in un, magari, un recente futuro. Però, insomma, non gli darei tanto peso, per quanto riguarda il discorso storia e trama. Però, secondo me, se facessero una roba del genere, sarebbe anche carina. In modo che noi non abbiamo sempre la stessa luminopoli per tutte le 20 ore di gioco, ma ci facessero vedere anche una luminopoli del passato, o, comunque, una Kalos del passato, sarebbe anche una cosa, una cosa carina, molto carina. E, credo che, principalmente, sarà centrato su... Cioè, non penso che ci sarà il team malvagio di turno, ma penso che, semplicemente, sarà centrato su... sul discorso di AZ e della macchina di AZ. Semplicemente. Più, ovvio, tutto il discorso di ricostruzione della città e della civiltà a Kalos, che potrebbe essere, appunto, dovuto alla post-guerra, al dopo-guerra. E... Vedremo, vedremo. Vedremo. Vedremo quello che tireranno fuori. e spero che diano una giusta lore, una giusta trama a questo titolo, che dovrebbe andare un pochino a riprendere e a richiudere un po' tutta la trama che abbiamo vissuto, tra virgolette, su X e Y. E vediamo quello che tirano fuori. Vediamo quello che tirano fuori. Avremo sicuramente tempo e modo di parlarne poi in futuro, nei prossimi mesi, quando usciranno poi altre notizie, notizie ufficiali. E... Vedremo. Vedremo. Aspetteremo con pacata ansia. Eh? Senza farci prendere troppo da hype. Ragazzi, fatemi sapere la vostra. Bacioni a tutti. Noi ci vediamo alla prossima, al prossimo video. Ciao.